signori miei siamo riusciti ad accapararci ancora del materiale in anteprima come avete visto da titolo stiamo parlando della skin del sorvegliante del prossimo mese e visto che direi che è una bella cosa e materiale importante lasciate un bel like condividete con i vostri amici e iscrivetevi al canale appena l'avete fatto io cambio di schermata fatto posso cambiare va bene cambiamo di schermata allora eccoci qua re gladiatore regina gladiatrice e rullo di tamburi sorvegliante dai seleziona questa benedetta skin dai ole sorvegliante gladiatore sulla sua nuvoletta fermiamo un attimo il tutto eh eh torniamo anche un attimino indietro perché voglio fare la visione dal frontale particolare molto carina a me ricorda molto più che un gladiatore anche se c'ha la corazza sul davanti con quel fulmine sul bastone con quel fulmine sul cinturone a me ricorda molto una figura mitologica greca eh Zeus avete presente che scagliava i fulmini il dio greco superiore onnipotente eh a me ricorda molto quello però chiamiamolo un po come vogliamo eh tanta roba eh tanta roba molto bello molto preciso nei dettagli molto accurato e da prendere sicuro eh io la paragonerei alla skin che avevano fatto del sorvegliante party eh direi che se la rivaleggiano sulla skin più bella in assoluto che hanno mai fatto per il sorvegliante secondo me guardiamola ancora un attimino che si in tutti i suoi dettagli col mantello che svolazza gli due papiri al fianco eh sì eh sì molto bella molto bella adesso andiamo anche a vedercela in battaglia direi eh una battaglia in modalità aerea eccoci qua allora vengono schierati re regina e il buon sorvegliante in modalità aerea che gira sulla sua nuvoletta e lancia i fulmini dal suo bastone a me continua a sembrare più il dio greco che un gladiatore però tanta roba comunque in ogni caso vediamo un po' anche al di là dell'esito della battaglia come l'animazione quando viene abbattuto quasi col palloncione nero quasi ci rimaneva ultimi secondi di abilità ancora qualche colpo subito tac ci lascia le penne eccolo qua con le stelline che girano e le mani sulla testa simpatica come idea direi molto simpatica vediamolo anche in azione via terra ovviamente se cambia qualcosa nell'animazione villaggino scelto andiamo a schierarlo via terra appunto con la freccetta verso il basso re e regina mettiamo anche qualche cacciatrice per distrarre gli eroi per bloccarli un attimino e così avere un'azione un po' più ampia come in precedenza lancia le sue fulmini dal bastone nessuna differenza da questo punto di vista a parte che non c'è più la nuvoletta e cammina quindi sotto questa versione qua rispecchia chiaramente di più il suo nome gladiatore appunto sorvegliante gladiatore e vediamo anche qua in questo caso quando viene abbattuto che che animazione farà la regina si lascia le penne il re già fatto pochi secondi ancora voilà e anche in questo caso come in precedenza mani sulla testa stelline che girano e quant'altro bello bello mi piace sperando di avervi portato del buon materiale di aver spiegato più o meno bene nei minimi dettagli come fatta questa skin che in arrivo il prossimo mese e quindi nel caso spero che mi lascerete un like andiamo a vedere l'ultima animazione che potrebbe essere interessante ovvero quando è a riposo nel villaggio oppure quando gira in giro intorno alla sua basettina insomma eccolo qua risvegliato gira sulla sua nuvoletta gira a piedi riposo in versione terra e mi sembra che stia in piedi che non sia una grossa differenza mentre quando è a riposo in versione volante è inginocchiato vedete il piede che spunta fuori dietro e quindi piccola differenza tra le due versioni molto molto precisi in questo fatto è carino direi che ci sta hanno fatto due cose completamente opposte quasi e bello che hanno fatto dei particolari un po così un po di un po differenti tanta roba direi tanta roba diamo ancora qualche secondino nuvoletta e che cammina nel suo villaggio a riposo che sta in piedi beh direi che questo mese si sono superati hanno fatto una skin molto accurata nei dettagli molto carina e andrò sicuramente a comprare il pass che arriverà perché voglio assolutamente che faccia parte della mia collezione credo che molti di voi condividiate il mio punto di vista e farete altrettanto non si può fare a meno di avere questa skin secondo me detto questo spero che vi ho illustrato nei minimi dettagli abbastanza bene le sue caratteristiche tutti i suoi ghirigori e quant'altro spero che mi lascerete un like quindi che condividerete con i vostri amici naturalmente se non siete ancora iscritti iscrivetevi guardate in descrizione che ci sono tutti i miei social per rimanere informati su prossime live, video e quant'altro e noi ci vediamo al prossimo ok? bye bye ciao 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 ciao